questo sia quello? perché sono corsi via? ma io sono non ci posso che merda che sono ma avete cambiato anche robe? ma avete rimiato gli amici? avete rimiato gli amici? avete rimiato gli amici? io lo so io sono arrivato qua dopo ma dali fuori che ti dirino dopo no ma avete rimiato avete rimiato gli amici no ma sono decoglio ma sento insomma sono difficile non c'è aspetta un attimo hanno detto che non hai amici no però questo qua avete esagerato mi stai rimuovendo tutto di qualcosa Cesare tei tei e la faccio pagare no ma è vero? non riesco a capire trovo i tuoi amici non c'è niente da vedere no è vero quelli che sono qua dentro no però scherzo e parte no non riprendere non riprendere non c'è niente da vedere non c'è niente da vedere secondo me non vado a pesco è più un sacco c'è la paoletta? non lo so non c'è più scusami questo è il peggio che potevi fare lo sai che cosa hai detto? non c'è perderlo eh adesso cosa fai? gli aggiungi uno ma penso che elimino facebook mi sa che mi conviene eliminare facebook per sempre massimo ti dico un modo c'è per riavere tutti i due amici come si fa? devi chiedere riscatto chiederanno riscatto troppo allora aspetta un secondo che sono più nerd di tutti voi messi insieme bastardi profilo account impostazione sulla privacy sai che c'è qualcosa che non vuoi vabbè cosa chiederebbe allora amici c'è il video c'è il video però non hai bestemmiato io avevo messo 10 euro che avresti bestemmiato come un matto sono contento che lo sapevo che avresti ma perchè guarda allora veramente ragazzi adesso adesso mi incazzo perchè nel senso io vi voglio bene nell'aria però ascolta so dove abiti so che macchina hai non ti incazzare poi cazzo cazzo io adesso c'ho sedia dove cazzo bello? eh ne vuoi comprare un'altra di acqua? allora come si fa a rimettere tutti gli amici? devi averli gli amici per poterli rimettere gli eventi mi servono di fare gli eventi c'è il film c'è il film mi servono di fare gli eventi c'è il muovo c'è il muovo c'è il muovo cazzo ma che chieda scritto? no ma lui è convinto che siano nascosti da qualche parte no no è una cosa scriste c'è il capo di te ti abbiamo salvato tutti i nomi però ma io ero la vecchia marco che cazzo me ne frega che cazzo li conoscevo adesso mia madre non mi vedrà più su facebook non mi cercherà Simone mi hai bloccato su facebook così non vedo le tue foto delle tue serate signori amici questo signore qui non vedi quella faccia ai vuoi beh però se vai sulla home page ti dice come fare ad avere degli amici Simone ti insegna ad avere degli amici aspetta zero amici no dai modifica amici non ne ho che cazzo modifico saldo crediti sarà sotto centro assistenza adesso che cercherò l'assistenza di farvi bloccare ma come cazzo non si pc soprattutto perchè non voglio il volante no non è vero che si può eh no non si può che cazzo si deve merda dai che figli di puttani che figli di puttani tutta la gente cazzo non ne ti chiedi li diamo sai che non mi incazza eh sai che non mi incazza no dai fate il serio ragazzi dove sono gli amici non sono gli amici ma Andrea Colomo noi volevate lasciarmi noi volemmo lasciarti ma no 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 santo dio ma no però secondo me non è finita qua c'è ancora qualcos'altro mi sa che mi conviene ma li hai letti tutti i commenti? inutili perchè anche nessuno li ha guardati no non è vero uno li ha guardati mi piace anche ero io ero io pazzesco eh però no ragazzi ditemi che c'è un rimedio guarda con il rientavo non lo stava tutti i nomi no no